Nelle prime ore della mattinata odierna, 28 ottobre 2020, a Latina, Frosinone, Formia, Fondi e Nettuno, i militari del nucleo investigativo del comando provinciale di Latina hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 persone, 6 in carcere e 7 agli arresti domiciliari, ritenute responsabili, a diverso titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa aggravata, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale, falsa attestazione della presenza in servizio del pubblico impiegato, autoriciclaggio, contraffazione di pubblici sigilli, sostituzione di persone, esercizio abusivo dell'attività finanziaria, rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, abuso d'ufficio, favoreggiamento e corruzione per l'esercizio della funzione. La misura cautelare si basa sulle risultanze acquisite dal nucleo investigativo del comando provinciale Carabinieri di Latina. Per approfondire questa notizia leggi l'articolo su vivicentro.it Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate, può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.